No, però alza al mattino, laggiù non la sentono volate, è alza al mattino, dove andate? Ma chiudi la porta, 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 chiudi quella porta, chiudi quella porta. Vedi il tempo ci ha assistito, almeno non si cuociono i nuovi ricombini. Quando c'è quel sonio che è finita, guarda. Dategli la mano, dai, dategli la mano. Vedi il tempo, non si cuociono i nuovi ricombini. Ma perché avrei la porta?